Assessore Speranza, siamo a un passo dallo scudetto del Napoli, come sta vivendo questi momenti e come festeggerà eventualmente in caso di scudetto? Sicuramente c'è grosse euforia per il terzo scudetto del Napoli che da qui a poche ore festeggeremo. Un appello però è di non abbandonare la prudenza, sicuramente ci saranno festeggiamenti in città, Napoli che è la capitale della Campania e potremmo dire oggi è la capitale dello sport in Italia, del calcio, mi correggo. La città è tutta tinta di bianco azzurro, come vive la città a questo momento? Sento di fare le mie congratulazioni soprattutto alla zona mare, ho visto una bella coreografia come anche quella all'angolo di Cesare Battisti vicino alla Cassa Marittima, è stata una bella coreografia, mi è piaciuta e quindi facciamolo sempre così le cose, in maniera sobria, in maniera voglio dire senza imbrattare, la stessa coreografia sulle scale della Villa Comunale pure è piaciuta. Con l'augurio magari di festeggiare anche negli anni a venire, anche con la Turris come è stato anche qualche anno fa? Sicuramente auspichiamo che presto anche la Turris possa raggiungere traguardi più ambiziosi, sicuramente la società quest'anno ce l'ha messa tutta, anche la squadra, è mancato forse un po' di fortuna in più, ma sicuramente negli anni futuri faremo di meglio, faranno di meglio perché io non sono un dirigente ma sono l'assessore pro tempore allo sport.